questo completo è fantastico perché sembra molto molto semplice invece è molto molto ricercato molto chic al tempo stesso è un leggings termico quindi adatto per questa stagione non è leggings estivo e alle fasce in pizzo laterali molto bello chi sta proprio bene simona bello questo con un tacco nero uno stivaletto avete già fatto il 50 per cento del vostro outfit i leggings sono veramente spettacolari veramente molto belli in vita hanno una cintura hanno una fascia con una cintura alta e sono pensati proprio per essere indossati come un capo di abbigliamento quindi non è il salito leggings da mettere sotto gli abitini no no questo è proprio un capo di abbigliamento infatti ti veste ti veste bellissimo quindi se voi volete attirare un po l'attenzione sulle gambe come simona delle gambe bellissime volete dare valore alle vostre gambe un leggings così non potete perderlo perché è fantastico poi mettete un tacco e via qui siamo pronte sì io sopra abbinato una maglia di lisanza che sempre un brand mini in italy è sempre una maglia in pizzo ed è tutta in pizzo però un pizzo piuttosto pieno e ha dentro un pochino di lana non tantissima è viscosa e lana è una maglia sottile come il collo barchetta è pensata proprio per una festa per una cena per un luogo in cui farà un pochino caldo comunque poi voi se volete sopra potete mettere una giacca potete mettere un giubbino però questa è perfetta anche per ballare sì sì perché sono tessuti proprio pensati per poi per adeguarsi alle varie temperature anche il leggins non è classico leggins pesante in lana è un leggins termico quindi lo stesso filato delle calze ma con uno spessore diverso perché è un capo di abbigliamento e con la vita bella alta e poi sopra la maglia allora io l'ho pensata così se invece voi volete mettere una maglietta corta potete anche utilizzare una maglia corta perché è rifinito apposta per far vedere il punto vita questo torna sempre al discorso di prima tu simona potresti anche portarlo così con una maglia corta con un crop top perché tu è vero puoi evidenziare il tuo punto vita e anzi lo valorizzi più facendo così ma poi anche il fatto che siano termici conta veramente molto sia senza veramente molto sì perché se ti trovi in un luogo tu vieni da fuori quindi fuori fa freddo esatto ci sono veramente tanti sbalzi termici di temperatura poi entri dentro fa caldo sei vestita troppo pesante non ci sa mai come ci si deve vestire quando si va a queste cene perché vieni da fuori che congeli invece così con pochi capi si sei già una bellissima figura ed essendo un po trasparente la maglia io ho scelto un reggiseno liscio ecco se voi volete attirare l'attenzione diciamo che io penso sempre degli equilibri quindi attiriamo l'attenzione sulle gambe colleghi la maglia deve essere un po più sobria quindi ho scelto un reggiseno liscio